Amici degli animali, siamo arrivati a Capodanno! Le feste stanno passando, si ricomincerà a lavorare. No, non voglio parlare di vacanza, voglio parlare solo di vacanza, perché la vacanza è la cosa importante, ricarichiamo le batterie, vero Artù? Dobbiamo ricaricare le batterie perché a breve riparte il tour dell'Italia di Artù, a breve ci saranno tante, tante, tante belle cose, ma oggi è il giorno di Capodanno, fine anno, quindi io presenterò una bellissima serata ad Alassio con Rudy Smaila, poi ci saranno i botti, ci saranno i botti. Ragazzi mi raccomando, le città, mi raccomando comuni, basta con questi botti, basta con questi botti, è importante, è bello, i fuochi d'artificio sono bellissimi, ma non devono far rumore, perché loro, sennò devono tapparsi le orecchie, devono tapparsi gli occhi e poi hanno paura. E poi sapete benissimo quello che succede, primo ci facciamo male noi, perché è ovvio, secondo si fanno male anche loro, quindi zero botti, divertiamoci, mi raccomando, buon inizio anno, buon 2015 a tutti da Marco Anelli e il mitico Artù, ciao ragazzi!